Salve a tutti giocatori bentornati come al suo volto il nostro nuovo video a parlare dei nuovi archetipi se l'audio è basso è perchè sto un po' morendo dato gli effetti un po' collaterali del vaccino no vabbè in realtà niente di che c'è giusto un po' di alterazione sono bollente, sono tipo vulcanico ma diciamo che ci sono 40 gradi fuori quindi parti di default con una temperatura più o meno sui 49 gradi quindi tutto bene, tutto bene, un po' di dolore ma tutto a posto partiamo a parlare dei magiche, i magiche che sembrano un archetipo veramente figo veramente tanto interessante, si basa su un mostro normale, su rituale fusioni è proprio anime, le artwork sono proprio anime andiamo a vedere la carta principale del mazzo, il magiche sky blaster clevis il mostro normale 1900, 1900, non leggerò la descrizione perchè no la carta magia che passa per le sue mani, il magiche mafte possiamo fusionare un mostro dall'extra deck oppure con i materiali da mano o terreno oppure fare una evocazione tramite il rituale ma se controlliamo un mostro normale possiamo anche mandare un mostro normale dal deck al cimitero come uno dei materiali per l'evocazione, fusione o rituale quindi parte molto bene perchè avendo ovviamente clevis in campo questa già ti fa mandare un mostro normal come materiale che credo sarà tipo un mazzo abbastanza contro tra virgolette perchè avrà sicuramente dei mostri contenuti c'è qualche supporto già uscito anche dal Giappone quindi avevamo anche già visto perchè siamo sempre lì ogni volta che c'è una carta attacca come delle faine incazzose poi magiche hunt laning quando questa data viene attivata possiamo aggiungere magiche dal deck alla mano la prima volta che un non token normal che controlliamo sempre si è istituto in battaglio dall'effetto di una carta non viene ristrutto durante la life phase possiamo aggiungere magiche mafted dal deck alla mano poi piazzare una carta dalla mano in fondo al deck possiamo utilizzare l'effetto una volta per turno questa poi è una carta rituale molto 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 forte non mi va di leggerlo ragazzi se è stoppate ve l'ho aperta per sbaglio ma probabilmente sarà utile anche per questo mazzo magiche cannon guards fed probabilmente sta toppando ogni pronuncio possiamo evocare questa carta ritualmente grazie a mafted guadagna attacco pari al numero di attributi differenti nel cimitero per 300 possiamo attivare gli effetti una volta per turno quando l'avversario attiva l'effetto di un mostro con lo stesso attributo di un nostro mostro al cimitero mentre controlliamo questa carta evocata tramite rituale utilizzando due mostri con attributi diversi possiamo negare l'attivazione e se lo facciamo distruggiamo la carta se questa carta rituale viene mandata al cimitero aggiungiamo un magiche dal deck alla mano non mi sono impappinato manco una volta magiche evoke the dragon andramibus non so perché fanno tanto charmer se solo per il fatto degli attributi diversi non c'entrano un cavolo però comunque un magiche effect monster più un normal non token monster quando viene evocata tramite fusione l'avversario non può attivare carte o effetti quindi già parti proprio con poi una volta per turno targettiamo un mostro normale oppure un magiche nel cimitero distruggiamo tutti i mostri dell'avversario che controlla con lo stesso attributo del mostro una volta per turno se è un mostro con lo stesso attributo di un mostro che abbiamo al cimitero vedete tutto in battaglia o dell'effetto è una carta se controlliamo questa carta evocata tramite fusione con due attributi differenti peschiamo una carta praticamente se giochi l'air of darkness stai a posto queste carte se le dando quasi tutte faccia perché tanti mostri sono tutti oscurità ma ci sono altri anche mostri oscurità ovviamente allora magiche blaster bottles buster io mi sono rotto le palle però eh di questi nomi questo è anche tuner non ho visto se gli altri fossero tuner questo è fusione e questo è rituale ok lui è un tuner quindi ci saranno anche dei synchro possiamo evocare questa carta rituale tramite maftit se questa carta viene evocata tramite rituale aggiungiamo magiche dal deck alla mano ogni effetto una volta per turno e possiamo quando un attacco che coinvolge questa carta e un mostro dell'avversario con lo stesso attributo di un mostro normale o di un magico che è il nostro al cimitero possiamo mettere un qualsiasi numero di carte dalla nostra mano in fondo al deck e se lo facciamo neghiamo l'effetto del mostro avversario con cui stiamo combattendo non è una carta che mi piace tantissimo ma è perché ti toglie troppe risorse per negare un qualcosa in battle quindi però vabbè è comunque un tuner che sicuramente avrà il suo scopo magiche evoke del beast anche lui tuner magiche è un mostro non token normale se viene normalato aggiungiamo magiche mafti dal cimitero alla mano possiamo utilizzare l'effetto del magiche una volta per turno stargettare un mostro di attacco un mostro dell'avversario in posizione di attacco con lo stesso attributo di un mostro normale o magiche nel cimitero cambiamo la sua posizione in posizione di difesa se lo facciamo perde mille di attacco e in più bandiamo ogni mostro che combatta questa carta ogni mostro distrutto in battaglia chi combatte sarebbe stato troppo forte gli ultimi due non sono carte che mi piacciono così tanto le altre si le altre mi piacciono molto un archetipo che a me piace tantissimo questo è alvine del final noting s perché si fa con due mostri normal probabilmente avrà un suo un suo perché anche perché attributo scurità quindi più avete attributi diversi al cimitero più il mazzo è forte bound magic case questa è la tipica la tipica artwork di un anime targettiamo un mostro normale o magiche nel cimitero e l'aggiungiamo alla mano e applichiamo uno dei seguenti effetti fusioniamo un mostro magiche in posizione di difesa utilizzando mostri nella mano terreno oppure facciamo un'evocazione rituale con lo stesso con lo stesso procedimento carta molto carina molto molto carina magiche in lock unlock e negate di archetipo quando l'avversario attiva l'effetto di una mancia o trappola mentre controlliamo un mostro rituale oppure un mostro specialato magiche dell'extra deck andiamo l'attivazione spacchiamo la carta poi dichiariamo l'attributo dichiariamo l'attributo e se la facciamo un timo con l'attributo attualmente controllato dall'avversario diventano dell'attributo dichiarato quindi diciamo è una carta contro trappola un po' specifica che non credo penso sarà giocata tantissimo però ha il suo perché lo ha il mazzo a me piace veramente tanto non so se si potrà imporre nel meta ma non so io ho questa ho questa sensazione che non sarà un for fun e sarà un qualcosa di molto molto forte non so perché mi da questa sensazione poi il tempo mi dirà se avrò toppato se avrò toppato malamente ma comunque questo è per oggi è tutto a meno che non ci siano esca la lista del cyber strike magari no stiamo ancora aspettando quella cavola di lista che è ancora non esce vabbè a meno che di incredibili eventi per oggi i video sono finiti non ci vediamo ovviamente in un prossimo video e un saluto a tutti i giocatori a tutti i giocatori